il presidente che si vince il mia mamma coppio milano esatto perché il milano ha pareggiato con lecce ci hanno sbagliato io non volevo parlare però ogni tanto ha già parlato il mio napoli oggi vinga ci dà una dimostrazione di gioco perché i giocatori ci stanno ma che ultimamente su napoli non c'è stato il mio berlino non è piaciuto i cambi non mi sono piaciuti però ti posso dire che secondo il mio punto di vista ma non è perché il mio sapere secondo me il napoli oggi vince attenzione a covalenco limite dell'aria sbaglia per fortuna mario lui leggero qui su questo pallone zoppica mario ru un uomo in meno e poi avanza sulla destra giasi quattro minuti di recupero e poi va sul fondo la mette lì per covalenco e con il vantaggio dell'empoli con covalenco no 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 cacciate che sia cacciatelo 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 lo sapevo lo dovete cacciare lo dovete cacciare adesso alle 14.23 lo dovete cacciare lo dovete cacciare uai figlio di puttana dovete cacciare anche della Ventis da quella panchita quella tribuna di merda lo dovete cacciare basta basta ma come si fa a prendere un gol così oh non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo no penso che se ne deve andare non lo so penso che se ne deve andare abbiamo preso col dal lento non ci credo pure Osimene in credulo Osimene in credulo guardate Osimene è rimasto così di pietra pure lui incredulo non ci credo non ci credo non ci credo prima partita prima partita prima partita prima partita la città prima la parte del cittadino e si eeeh 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 è arrivato è arrivato eeeh ha detto che arrivava dal tempo lì era giusto così ha segnato con la lingua, ha segnato con la lingua, ha fatto moca! Con stranieri che ha giurito, con la lingua, la giurita che ha segnato l'Ucraina! Ha fatto moca! Ha fatto moca! Chi le può ha segnato il croissant con la lingua? Ha fatto moca! E che l'Ucraina che ha segnato il muro? E sta la taia, sto cutendo, sta la taia! Ha chiesto la gollina delle colpe qua, papà! Ha fatto moca! Mi chiede parla moca, cazzo! Ma chi te segnato l'Ucraina? Ha fatto moca! Ha fatto moca, sono da taia! Sono da taia! Ma quando arriva? Ha fatto moca! Ma quando arriva, Vittorio? Ma dalla sottacacqua! Poveri tifosi! No, vado te la mai moca! Che fai? Ma se ne hai provo? Capalizzo, la taia che si! Ma non caccia! Eeeh! La taia che si! Eeeh! Ma non caccia ancora qui! Ha fatto moca! Ma non caccia! Ha fatto moca! Ma sono da... E' la caglina! Che sono da taia che si! Eeeh! Caia! E bu! E bu! Ma comincia alla te! Perdi un manetto! Che da città ha buschas una mattina! Che da città ha buschas una mattina! E bu! Da città ha buschas una mattina! E bu! E caglina! E' un ragazzo del palco! E' un attimo! Perfetto! Perfetto! Sono contento! Sono contento! Sono contento! Dei molti di venti! Ma sono proprio contento! E se non lo mangio, si è buono! Mannaggia che la struttura c'è! Ma come cazzo si può veramente! Ma come è possibile! Questo gol che se l'ha inventato perché... Che gol ha ingerrato questo! A me si vuole annuscare un meneco! A me si vuole annuscare un meneco! Ma io non ci credo ragazzi! Io non ci credo ragazzi! Io non ci credo! Che gol che ha fatto l'Empoli al 91esimo! Al 91esimo! Andiamo a perdere! Una partita! Non ho parole ragazzi! Non ho parole! Credetemi! Che gol che ha fatto ragazzi! È inammissibile ragazzi! Io non ho parole! Credetemi! Che gol che ha fatto ragazzi! che gol del lieco! Grand меся! Bravi! Vedo burdezza! Vedo burdezza! Vedo burdezza! Voi! 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 Vedo burdezza! ha segnato l'Empoli ha segnato l'Empoli ha segnato l'Empoli ha segnato l'Empoli che golla che ha fatto incredibile ha segnato l'Empoli ragazzi qua penso che è finita qua penso che è finita a parte che ha fatto un gol incredibile l'Empoli ma penso che qua è finita la partita cioè qua è finita proprio la stagione è finita la stagione ragazzi a parte che ha fatto un gol ha fatto un gol bellissimo l'Empoli ma comunque è finita la stagione qua qua è finita è finita è calato il cielo lo stadio Maradona ma qua c'è, non c'è la cala di Ciar dieci volte fa è finita la stagione è molto bello di Kovalenko rivediamo tutto Ciasi Ebuè scarico per Kovalenko nessuna pressione sulla palla e poi si inventa il gol Cravers però la mentalità dell'Empoli la sua posizione di Ebuè non c'è che non c'è non c'è non c'è Grazie a tutti.